Tele Durruti, Luigi Antani, tautologicamente se stesso, è anche un amico, lo incontro e mi ospita nel suo nuovo studio. Questo era lo studio di chi? Di Canova, dopo Canova Antani. Di fatto abbiamo tante uova in giro, pinealli però, proteine, crostoliche, perché erano in quistica di tendere e tanti altri costi. Se diametese è diventata una prena settimana e frase. Lingua linga, lingam, lingua lunga, ritualizzato da abogà, uno dei miei amici artigiani. E' temporale. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.